Chi vuole essere milionario? In teoria tutti. Nella pratica il fortunato è uno solo, quello che ieri ha vinto 3 milioni di euro in una tabaccheria di Via Mare a Porto d'Ascoli. Gli è bastato dare una sfregata al gratta e vinci per mettere a segno il colpo della vita. La dea bendata è sbarcata in riviera, precisamente alle 17 di ieri pomeriggio, quando un cliente della tabaccheria By Go in Via Mare ha acquistato uno dei nuovi tagliandi Vivere alla Grande e ne ha ricavato un vitalizio di 10 mila euro al mese, più 500 mila euro subito e un bonus finale di 100 mila euro. L'ha comprato qui e l'ha grattato qui. Non si capacitava, infatti mi ha chiesto la conferma se era possibile una cosa del genere e dopo che io gli ho dato la conferma mi ha ringraziato, mi ha chiesto di tenerlo segreto. Sull'identità del vincitore al momento il silenzio è d'obbligo, ma la tesi più accreditata è che possa trattarsi di una donna di Porto d'Ascoli. Sì, personalmente la conosco, lo conosco o la conoscono non posso dirlo, però la notizia si è sparsa lo stesso perché evidentemente c'era qualcun altro che stava grattando da un altro lato e poi si è sparsa qui in zona, lo sapevano ormai tutti. Io non lo so se gli altri che erano nel negozio hanno capito la faccenda, però visto che si è sparsa la voce potrebbero saperlo, sì. Sicuramente adesso sta meglio. Giocare con moderazione è facile a dirsi, ma difficile a farsi. La ConfCommercio ha reso noto che nel solo mese di ottobre la spesa degli italiani è cresciuta ben oltre il 200%, segno che in tanti sognano una nuova vita. Molto sporadicamente, insomma, poi perché bene o male ti fai trascinare un pochino dall'entusiasmo quando c'è qualche vincita, allora bene o male perché non provare? È uno alla settimana, mille. E mille euro? E mille euro una volta. Eh beh, è da lui quello che l'ha vinta, insomma. Ma senza nessuna frequenza, quando mi capita ad esempio un resto, un euro, due euro, niente di che. No, no, sono cifre piccole, ma non è che sono un accanito di gioco, quando mi capita gioco un po'. Beh, questo qui diciamo che è diventato una malattia per molte persone. I giochi da tabaccheria sono quelli più diffusi. Oltre alla lottomatica, l'impennata di vendite si è registrata per i Gratta e Vinci. Quasi ogni mese ne viene diffuso uno diverso e ce ne sono per tutti i gusti. Poi per quanto riguarda la vincita, sta anche il rovescio della medaglia perché bisogna vedere come una persona prende questa vincita perché bisogna sempre stare con i piedi per terra, perché la fortuna non va cercata ma è la fortuna che ti trova.